È un mercato in una fase iniziale di sondaggio, ma siamo molto attenti e molto concentrati su ciò che può essere la cosa giusta per il terreno. Se possiamo fare un nome probabilmente Speranza è l'uomo più vicino alla permanenza, puoi seguire Amadio, Scipioni, Cenciarani invece proprio no. Ci sono anche altri che hanno dato già adesione al nostro progetto, Caidi, Dorazio, Paolo Antonio, Petrella. Speranza è sicuramente un leader di questo gruppo e quindi noi abbiamo grande rispetto per lui e proprio per questa ragione attendiamo che lui prenda con tranquillità e serenità la decisione che ritiene corretta. Noi gli abbiamo proposto di restare con noi ancora per il prossimo anno o anche per di più se lui lo riterrà opportuno. Lui l'ha presa con grande gioia questa nostra proposta perché è stato un attestato di stima nei suoi riguardi così come abbiamo fatto con altri. Però non ci facciamo condizionare poi eccessivamente da eventuali evoluzioni del mercato che possano portare anche un giocatore a prendere altre strade. Vorrà dire che noi andremo anche noi su altre strade. Senta, se ne è parlato poco, Alessandro Tonti, com'è la situazione tra i pali? Alessandro viene da una stagione onestamente non semplicissima dopo una stagione invece straordinaria. Quindi è un portiere che obiettivamente ha un suo valore, ha una sua dimensione. E anche lì siamo in una fase di valutazione insieme a lui. Anche lui deve capire se per il portiere è ancora più complicata la valutazione sotto l'aspetto psicologico. Rimanere in un ambiente di cui sente la fiducia o viceversa. Con lui stiamo valutando anche la possibilità di rimanere oppure se dovesse avere prospettive di uscita le valuteremo insieme a lui. L'ultimo, Margiotta. Francesco Margiotta è l'uomo più vicino a quello che avete puntato con maggiore attenzione? È uno dei nomi che abbiamo puntato, sui quali stiamo lavorando. Stiamo lavorando anche su profili di giocatori simili perché Margiotta è un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso. Ha anche lui delle aspettative, anche lui si sta guardando intorno e come lo fa lui lo facciamo anche noi. Grazie.